Allora, buonasera, i programmi della serata, a breve, per il ciclo Oroscopami, trasmettiamo l'oroscopo dell'avvocato Antonio Lungo, nato il 26 agosto 1964, allora, dicevamo, è della vergine, ascendente bilancia, però ha il sole in undicesima casa, quindi è come se fosse acquario, questo conferma le tendenze single, si, omosessuali, perché se uno va a vedere le persone single, amano troppo se stesse, c'è un rispecchiamento continuo nella propria immagine, quindi è come se fosse un narcisismo, dopodiché però c'è questa, c'è anche la luna in ariete in opposizione all'ascendente, quindi è una persona che si arrabbia, c'è anche una tendenza ad essere molto impulsiva, alla tua casco, alla luna opposta all'ascendente, proseguo, proseguo, amaca, non esiste, alla tua Lugone, va bene, alla radio Lugone, diciamo che quello che spicca è un po' una mancanza di acqua, di personalità, no, una mancanza di acqua, infatti c'è birra, c'è birra, c'è birra, sì, no, seriamente, dai, un momento serio, c'è uno scarso contatto con la parte dei sentimenti, no, c'è un'impronta emotiva e razionale, anzi più cerebrale, ma scarso contatto con il mondo dei sentimenti, hai capito? perché la parte razionale predomina sul cuore, è vero, hai capito perché lei con le donne c'è uno scarso, le conquisto ma poi le, non a caso è tipico anche della, proprio una persona che è più interessata dal mio punto di vista al rimorchio fine a se stesso, piuttosto che a vivere la realtà di una relazione, è un rimorchione, un signor rimorchione, nel senso che è un signore, è un signore, è un signore, al suo modico, è una brava persona, io ci provo ma me scaricano, lo scaricano perché si annoiano, si annoiano, questo tutto mi vuol dire il run che io faccio annoiare, no, no, si annoiano perché cercano i bastardo, infatti io sono troppo buono, sono un buon amore, è una brava persona, lei ha un'età mi ha inquadrato, non la dire perché no, non la ricordo, donne se cercate dolcezza, mi fate chiudere la trasmissione, chiudi, chiudi, è finito l'orosco, no, poi ne parliamo, chiamami a studio tesoro perché ti devo dire, la chiamerò in privato, la chiamerò in privato, consulenza privata, grazie, è una professionista seria, grazie per la discrezione, chiamami a studio tesoro, perché io qua vedo delle cose e te so che non te posso dire in diretta, perché la professionalità le impone la discrezione e la riservatezza, brava, mi piace, è molto professionale, abbiamo toccato proprio il, avete toccato il fondoschiena, abbiamo toccato il gatto, il gatto, si, l'ho fatto per Emanuele, ce l'abbiamo fatta, mamma mia colana, la devo portare a recitare con me, allora, per chiudere, per andare a chiudere questa nostra puntata che tutto si può dire che sia stata una puntata sportiva, ne abbiamo parlato di tutto, meno che di sport, sei pesante, ma, se veramente la prossima settimana non c'è la puntata, facciamo adesso gli auguri? Hai parlato un quarto d'ora del Montero, intanto, 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 guardi, guardi, intanto io l'ho buttata lì, perché, ha paura a mettersi a nudo, intanto io l'ho buttata lì, perché, finendo il campionato, teoricamente, noi dovremmo, come dire, chiudere anche la nostra serie di puntate, perché, per riprenderle poi a gennaio, ma perché noi parliamo di calcio qua, che ti importa del campionato?